salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale angolo creatività di enza in questo video tutorial andremo a realizzare insieme questo bellissimo e semplicissimo top ai ferri è facilissimo perché non dobbiamo fare nessuna diminuzione ma dobbiamo solo realizzare due pannelli e due bratelline che poi nel corso del tutorial vi farò vedere passo passo come si realizza è un progetto semplicissimo quindi ideale anche per coloro che stanno iniziando a lavorare da poco ai ferri quindi per i principianti allora il mio top misura e per una misura 42 44 e misura in altezza 38 centimetri mentre invece in larghezza ogni pannello misura 40 centimetri mentre invece le bratelline misurano 25 centimetri in lunghezza allora ho realizzato questo top con un filato ecologico questo qui cotone 100 per cento ecologico greta della casa tre sfere e ho lavorato questo cotone ho lavorato il mio top con due numeri di ferro sia con il ferro numero tre e mezzo che con il ferro con i ferro numero quattro e mezzo allora con i ferro numero tre e mezzo andremo a realizzare il bordino iniziale e il bordino finale e le bratelline mentre invece con il ferro con i ferro numero quattro e mezzo andremo a realizzare il resto del corpo del nostro top inoltre ci occorrerà un uncinetto di qualsiasi numero di qualsiasi uncinetto avete in casa poi ci occorreranno qualche spillino da sarta ci occorrerà una goda lana questo qui con la corona un pochino più larga inoltre ci occorreranno delle forbici e un metro da sarta bene detto ciò prima di andare al tutorial vi voglio ricordare per chi non l'ha ancora fatto di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella così da essere sempre aggiornati sui nuovi tutorial inoltre vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina facebook sulla mia pagina instagram di cui vi lascio il link delle pagine sempre giù nell'info box e sempre sempre giù nell'info box vi lascio anche il link in un link dove potete trovare i materiali e accessori per poter realizzare le vostre creazioni bene andiamo al tutorial le realizziamo insieme questo bellissimo top allora con i ferro del numero tre e mezzo ho avviato per il mio top 62 maglie più due per il vivagno in totale 64 maglie ora vado a lavorare un bordino di 4 cm quindi vado a lavorare in totale 10 ferri per il bordino allora per quanto riguarda il bordino lo andremo a realizzare appunto coste 2 2 poi per quanto riguarda l'avvio delle maglie sui ferri come si lavora la maglia a diritto e di come si lavora la maglia a rovescio giù nell'info box vi metto un link di un tutorial che ho fatto a parte che vi spiego tutto tutti questi passaggi allora iniziamo a lavorare il nostro bordino lavoro la prima maglia a diritto perché come sapete io sia la prima maglia che l'ultima maglia ne vado sempre a lavorare a diritto perché sono maglie di vivagno stringo un pochino e poi inizia a lavorare due maglia diritto e alterno con due maglie a rovescio quindi per poter realizzare in questo punto punto coste 22 bisogna avviare sui ferri sempre un numero di maglie pari due maglie a diritto e due maglie a rovescio praticamente per tutto il ferro non dobbiamo fare altro che alternare due maglie a diritto con due maglie a rovescio quindi andiamo avanti e noi ci vediamo un po prima di terminare il primo ferro bene sono arrivata quasi alla fine del ferro vedete mi mancano le ultime quattro maglie quindi lavoro due ho terminato vedete con due maglie a diritto lavoro due maglie a rovescio e termino con due maglie a diritto una e due e chiudo con una maglia diritto che è la maglia di vivagno abbiamo in questo modo terminato il primo ferro ora il secondo ferro e tutti gli altri ferri per quanto riguarda il bordino dobbiamo andare a lavorare sempre le maglie così come si presentano allora la prima maglia la vado a lavorare a diritto perché come abbiamo detto una maglia di vivagno si presentano due maglie a rovescio che vado a lavorare a rovescio così due maglie a diritto e vado a lavorare a diritto due maglie a rovescio e le lavoro a rovescio quindi non dobbiamo fare altro che lavorare le maglie così come si presentano alternando sempre due diritti con due rovesci quindi andiamo avanti e lavoriamo in questo modo in questo modo per quattro centimetri ho già detto che i miei quattro centimetri appunto coste due due sono in totale dieci ferri quindi lavoriamo sempre i nostri ferri così le maglie dei nostri ferri così come si presentano iniziando sempre con una maglia a diritto di vivagno e terminando con una maglia a diritto di vivagno andiamo avanti e ci vediamo al termine del decimo ferro bene ho terminato il mio bordino appunto coste due due vedete questo è il risultato quindi ho lavorato dieci ferri per un totale vedete di quattro centimetri voi se volete un bordino un pochino più alto potete continuare con la lavorazione mentre invece se lo volete un pochino più piccolo mi fermate un pochino prima bene ora dobbiamo iniziare a lavorare diciamo un po il corpo del nostro top e dai ferri numero tre e mezzo passo ai ferri di un numero più grande quindi con i ferri numero quattro e mezzo e proseguo a lavorare tutto il corpo del mio top a maglia rasata quindi non devo fare altro che alternare un ferro a diritto con un ferro a rovescio quindi il primo ferro lo vado a lavorare tutto a diritto la mia prima maglia di vivagno a diritto e tutte le restanti maglie le vado a lavorare tutte a diritto quindi un lavoro molto molto semplice non dobbiamo ricordarci nessun passaggio diciamo perché comunque i ferri da ricordarci sono solo un ferro a diritto e un ferro a rovescio che comunque non vi potete sbagliare perché ad occhio si vede quando dobbiamo lavorare a diritto e quando dobbiamo lavorare a rovescio se casomai ci capita di dover lasciare un attimo il lavoro e questo è un discorso che va particolarmente ai principianti quindi proseguo a lavorare tutto il primo ferro a diritto vedete in questo modo e lavoro fino alla fine del ferro a diritto e noi ci vediamo alla fine bene ho terminato il mio primo ferro a diritto ora inizio il ferro a rovescio vedete quando ci troviamo sul rovescio ci troviamo con tutte queste ondine mentre invece sul dritto si presenteranno tutte treccine quindi non ci dimentichiamo di cambiare il ferro mi raccomando quindi prendo l'altro ferro del 4,5 e inizio a lavorare il mio ferro a rovescio lavoro la prima maglia a diritto perché è la maglia di divagno quindi dipendentemente dal resto della lavorazione che andremo a lavorare questo ferro a rovescio la prima e l'ultima maglia è sempre a diritto e proseguo a lavorare le mie restanti maglie a rovescio così quindi lavoro tutte le maglie che stanno sul ferro a rovescio tranne l'ultima che la vado a lavorare a diritto quindi proseguiamo a lavorare a rovescio fino alla fine e noi ci vediamo dopo bene ho terminato anche il ferro a rovescio ora mi trovo sulla parte a diritto del lavoro quindi devo lavorare un ferro a diritto quindi andiamo avanti in questo modo alternando un ferro a diritto sul diritto e un ferro a rovescio sul rovescio per tutto il nostro top perché poi andremo a concludere con una fascia uguale al bordino che abbiamo fatto al bordino inferiore del top concluderemo anche la parte superiore con un bordino quindi ora vado avanti a lavorare a maglia rasata quindi un ferro a diritto e un ferro a rovescio per circa 30 centimetri e poi vi farò sapere in totale quanti ferri ho lavorato a maglia rasata quindi io vado avanti con i miei 30 centimetri mi raccomando 30 centimetri contando qua da dove abbiamo iniziato a lavorare a maglia rasata arrivate ai 30 centimetri e ci rivediamo bene ho terminato di lavorare i 30 centimetri a maglia rasata quindi contando 30 centimetri subito dopo il bordo a punto poste 2,2 ho lavorato 30 centimetri per un totale di 70 ferri a maglia rasata ora andiamo a terminare la prima parte del nostro top facendo un bordino sopra come vi ho detto prima uguale al bordino iniziale quindi vado di nuovo a riprendere i ferri di un numero più piccolo i ferri numero 3,5 e vado a lavorare 10 ferri a punto coste 2,2 come abbiamo fatto per l'inizio quindi iniziamo a lavorare con una maglia di vivagno a diritto e poi andiamo ad alternare due punti a diritto e due punti a rovescio terminando con un punto di vivagno a diritto e andiamo a lavorare un totale di 10 ferri a punto coste 2,2 quindi per 4 centimetri uguale all'inizio quindi inutile che ve lo faccio rivedere perché già ve l'ho fatto vedere quando abbiamo iniziato quindi facciamo i nostri 4 centimetri di bordino a punto coste 2,2 e poi possiamo chiudere la prima parte del nostro top bene, ho terminato anche la fascia superiore del top a punto coste 2,2 e la prima parte è terminata quindi in totale la mia prima parte del top misura 38 centimetri perché abbiamo lavorato 4 centimetri a punto coste 2,2 30 centimetri a maglia rasata e altri 4 centimetri a punto coste 2,2 ora andiamo a chiudere tutte le nostre maglie e già come ho fatto vedere in altri tutorial andremo a chiudere in questo modo avvicino un attimino la telecamera e andiamo a lavorare una prima maglia a diritto così poi lavoro un'altra maglia a diritto mi raccomando sempre in modo molto morbido senza tirare il filo altrimenti ci viene una chiusura che tira andiamo ad accavallare la prima maglia sulla seconda maglia così lavoro un'altra maglia a diritto e faccio la stessa cosa vado ad accavallare la prima maglia sulla seconda maglia questo procedimento lo potete fare sia con le dita che andate ad accavallare come ho fatto vedere prima altrimenti se riuscite anche con il ferro così lavoro un'altra maglia a diritto e vado ad accavallare magari con le dita ci sarà più semplice quindi andiamo avanti e procediamo in questo modo fino a chiudere tutte le nostre maglie e noi ci vediamo alla fine bene sono arrivata quasi alla fine vado a chiudere le mie ultime maglie chiudo l'ultima maglia vado ad accavallare così tolgo il ferro stringo un attimino tiro un po' il filo taglio e faccio passare il filo attraverso l'asola così da assicurarci di chiudere bene abbiamo quindi terminato la nostra prima parte del top ora dobbiamo realizzare un'altra parte identica a questa qua seguendo la stessa procedura una volta che abbiamo terminato anche l'altra parte vi farò vedere come cucirle insieme bene ho realizzato le due parti del top identiche ora dobbiamo andarle a unire tutte e due e che faccio allora vado a sovrapporle mettendo il diritto contro il diritto in questo caso, nel mio caso la parte questa qua più liscia è la parte che va sul diritto prendo l'altra parte e vado a sovrapporle così vedete questa parte a diritto sull'altra parte a diritto e faccio congiungere i lati dove andremo a fare la nostra cucitura allora per facilitare la nostra cucitura io andrò a mettere degli spillini quindi farò combaciare bene le due parti vedete i 4 cm appunto coste 2,2 andranno a combaciare bene con i 4 cm appunto coste 2,2 dell'altra parte così e metto qualche spillino continuo ad unire tutte le due parti con degli spillini in modo tale da facilitarci di più la cucitura per avere anche una cucitura più precisa quindi andiamo a mettere tutti gli spillini sia su un lato e sia sull'altro lato e poi procediamo con la cucitura con ago e filo bene una volta che abbiamo unito le due parti con gli spillini vedete procediamo con la cucitura allora io mi sono munita di un ago questo qua per un ago da lana con la pruna un pochino più larga e il filo in tinta cioè lo stesso filo che abbiamo utilizzato per il top inizio la mia cucitura come ho già fatto vedere in altri tutorial andremo a cucire proprio qui dove abbiamo fatto la maglia di vivagno quindi faccio prima qualche punto vado a sovrapporre qualche punto all'inizio in modo tale da chiudere bene ne faccio un altro e poi proseguo con la cucitura poi ognuno andrà a cucire nel modo che è più abituato non facciamo dei punti troppo larghi altrimenti poi cioè si apriranno ma andiamo a fare dei punti molto fitti così quindi proseguiamo a cucire in questo modo per tutto il lato quando arriviamo alla fine faremo la stessa cosa qui quando arriveremo ai due angoli qua andremo a fare qualche punto sovrapposto e poi tagliamo il filo una volta terminata la cucitura su questo lato inizieremo la cucitura dall'altro lato e noi ci vediamo al termine delle due cuciture bene una volta che ho cucito il mio top su entrambi i lati ho anche messo una prima bratellina l'altra l'andremo a realizzare e cucire insieme allora per quando poi riguarda il posizionare la bratellina potete identificare bene dove mettere la bratellina indossando il top la mia bratellina io l'ho posizionata l'ho cucita a 9 cm dalla cucitura quindi a 9 cm ho cucito la bratellina ora andiamo a realizzare l'altra bratellina insieme e vi farò vedere come si realizza allora ho misurato 9 cm dalla cucitura a dove dovremo iniziare a realizzare la nostra bratellina quindi da questo punto qua ora con un uncinetto perché dobbiamo unirci anche di un uncinetto andiamo a riprendere le 6 maglie per poter realizzare la nostra bratellina quindi 9 cm inizio da qua su queste due maglie a diritto poi prendo due maglie su queste qua a rovescio e altre due maglie su queste qua a diritto prendo il mio filo e vi faccio vedere come si fa quindi da questo punto qua tolgo lo spillino inserisco l'uncinetto qui dove abbiamo chiuso le maglie e prendo la prima maglia così e faccio lavoro la prima maglia prendo il ferro con il ferro numero 3,5 e inserisco la maglia sul ferro così poi prendo un'altra maglia inserisco l'uncinetto nella maglia subito dopo e pesco un'altra maglia così prendo la maglia e la inserisco sul ferro con un po' di attenzione ci possiamo riuscire vado nell'altra maglia nella terza maglia la pesco e la metto sul ferro sono tre dobbiamo prenderne altre tre maglie vado nella maglia subito dopo prendo la maglia così vedete e la metto sul ferro vado nell'altra maglia prendo e la metto sul ferro quindi ne abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque dobbiamo prendere un'ultima maglia e la metto sul ferro la sesta maglia così ora non dobbiamo fare altro che prendere l'altro ferro numero 3,5 e iniziare a lavorare le maglie tutte a punto legaccio come abbiamo fatto in questo caso qua come abbiamo fatto nella prima bratellina quindi ora iniziamo a lavorare le maglie a punto legato quindi ci troviamo in questa situazione qui giro il lavoro e inizio a lavorare tutte le maglie a punto legaccio a punto legaccio tutte le maglie a diritto quindi tutti i ferri li andremo a lavorare a diritto così poi giriamo di nuovo il lavoro e proseguiamo sempre a lavorare a maglia legaccio e dobbiamo proseguire nel mio caso la bratellina la lavoro per 25 cm voi stesso discorso che vi ho fatto prima se avete la possibilità di poter indossare il top potete anche prendere la misura giusta addosso a voi quindi vado avanti e lavoro 25 cm in maglia legaccio poi vi farò vedere come cuscire la spallina sul dietro del top una volta che ho raggiunto i 25 cm per la bratellina vado a chiudere le maglie sul ferro come abbiamo chiuso prima per quanto riguarda le due parti del top quindi senza che ve lo faccia vedere andiamo a chiudere le maglie come abbiamo fatto per il top allora una volta che abbiamo chiuso le maglie vedete non tagliamo tutto il filo lasciamo una bella codina quindi tolgo il ferro e rimango un bel po' di filo in modo tale da poter cucire poi la nostra bratellina al top quindi taglio e come abbiamo fatto prima facciamo passare il filo attraverso l'asola in modo tale da chiudere bene ora possiamo cucire la nostra bratellina sul retro del top allora per cucire la bratellina dobbiamo risvoltare il top sulla parte a rovescio in questo modo poi dobbiamo andarci a identificare il punto in cui dobbiamo cucire la la bratellina quindi a 9 cm dalla cucitura perché vi ricordate qui abbiamo iniziato a prendere le maglie a 9 cm dalla cucitura la stessa cosa dobbiamo fare sul retro quindi 9 cm vedete ci troviamo giusto con la cucitura qua dove abbiamo iniziato la bratellina quindi ho messo già il mio segno ho infilato già l'ago con la codina che abbiamo lasciato in più e inizio in questo modo a sistemare la mia l'altra parte della bratellina quindi qui stanno i 9 cm vedete metto così e metto uno spillo vado a fermare bene la bratellina ora dobbiamo fare una cucitura come abbiamo cucito i due lati del nostro top dobbiamo cucire sopra qua in modo tal da fermare bene la bratellina se il filo si trova di qua tranquillamente giriamo il top e iniziamo così la nostra cucitura mi raccomando fate prima qualche punto qua di fermo poi cuciamo e facciamo l'ultimo punto di fermo anche da quest'altro lato uguale a come abbiamo cuscito il top quindi senza che ve lo faccia vedere è una cosa che possiamo fare anche da sole cuciamo la bratellina e il nostro top è terminato bene ed ecco che una volta cucite le bratelline il nostro top semplicissimo è terminato indossato è veramente molto carino molto fresco molto estivo e lo possiamo abbinare sia su dei pantaloni che su delle gonne bene questo è il mio tutorial io spero tanto di esservi stata chiara di esservi stata utile e se avete qualche domanda se avete qualche dubbio qualche consiglio qualche richiesta lasciatemi pure un commento giù nella sezione commenti se il tutorial vi è piaciuto lasciatemi un like iscrivetevi al canale e io vi do appuntamento al prossimo tutorial ciao